porca puttana eva ed eccoci qui in quel anno è finita ma mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi non ci siamo per un cazzo e mamma deve vedere neanche solo 1 a 1 avevo impressioni buone sinceramente perché subito dopo subito insegnato ma bisogna lina cosa calaresi ha ampiamente meritato di vincere sta partita in modo di vedere ringraziamo di gennaio che ha avvitato altri due gol possibili con due miracoli ma non ci siamo per niente sinceramente parlando male malissimo porca puttana come solito il cazzo perché io le cose quando c'era di le dico punto e basta poi se sta bene resta bene sempre sta bene non mi frega niente sinceramente parlando ma siamo in caduta libera peggio del milan onestamente parlando cazzo e quindi amo basta porca troia calciomercato è chiuso finita adesso alle otto intanto crossa ancora al gubbio vedremo un po se molti due minuti quindi siamo al novantasettesimo dei cinque del recupero vedremo un po ultima occasione credo ancora al gubbio ed è finita male 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 ne ho creato davvero pochissimo un'unica occasione con vasquez nel primo tempo poi il gol le semelaro e poi ne fatto nient'altro invece loro hanno creato e hanno meritato a modere vedere ma io dico che c'è un'involuzione di tutto un'altra volta ero andato a vedere i commenti sotto la pagina del club tutti entusiasti tutti sinceramente visto tutt'altra partita sinceramente parlando questo dubbio davvero opaco stessa cosa oggi sinceramente parlando poi per carità un punto colentella sempre buono anche perché oggi ha vinto 2 a 1 lancuna ha vinto 2 a 1 porca troia è ora che si svegliamo cazzo che mi sono rotto il cazzo tra l'altro che ha segnato melchiorri porca puttana che ci avrà anche 40 anni ma la butta dentro due gol e nu presenze puttana mignotta e namo porca troia noi altri mo venuto un bagoco a triestina marre se mo preso dal cinema to qui troppa gente ce vorrebbe secondo me parandrizzata baracca porca puttana stesso bonini davvero pessimo in difesa che perde la palla me sembra ma me sembra mancini della roma quando non è un fumo appena cavolo porca puttana e quindi male io sinceramente sono cazzato come una bestia perché sto a vedere in dubbio davvero un crisinetta porca eva intanto di sotto la curva i giocatori ma vedo aria decontestazione cioè siamo rotte le palle porca puttana e che cazzo è ora di svegliarsi da qui porca puttana tanti se fanno mettere il fumo contro gli occhi perché siamo ancora in posizione buona però porca puttana se fanno sti versi non so quanto cazzo dura sta cosa è perché siamo a cinque punti diavolo maiale dal florenzo alla che decimo non ci vuole tanto è anche perché questi risultati non so che cazzo fai porca troia per fortuna che giocano con la leggiana oggi speriamo che non recuperino i punti però porca puttana non ci siamo per un cazzo io sinceramente non sono soddisfatto più niente mi frega più un cazzo sinceramente cristo madonna sono cazzato come una bestia punto e basta porca eva addirittura se parlava ad esau a voletta addirittura magari fosse porca eva magari fosse da qui insegniamo manco più porca troia fanno una fatica immonda anche per segnato oggi abbiamo segnato ma e vale per l'almanacco porca puttana poi in crepi niente gioco zero proprio fiacchi al massimo e loro potono vincere anche molto di più del 2 a 1 finale sinceramente parlando porca troia e quindi migliori in campo per loro ci metto schiavi che ha fatto un bel gol ci metto anche giannetti tra l'altro ex e ci metto anche marino difensore tolì che ne ha fatto ne ha fatto cosa niente noi altri metto semelaro e di gennaro che ha fatto due parate buoni e per il resto poca roba lo stesso arena tu qui se parla serie b ma comincia a rendere un po di più sinceramente tu qui si sta montata già sugli allori ultimamente un po tutti porca troia e quindi niente vediamo le svegliarsi anche perché non ci aspettano parete tosti che del solito il gruppo e non contava le parete tosti faceva risultato ma c'è questo girone di ritorno non c'è vero del fan cazzo porca puttana ci sarà rimini e poi la reggiana tutte e due fuori casa e quindi da macena svegliata porca puttana non c'ho niente altro a dire sinceramente partita brutta del dubbio bruttissima e quindi niente sempre 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 forza guccio non c'è un po' Grazie a tutti.